A Villanova, a Mondovì, torna un'iniziativa importante, ci vuole parlare di questa edizione e cosa dobbiamo attenderci? Sì, questa è la settima edizione di Bay che ritorna per una o due giorni sempre più intensa con una serie di novità. Quest'anno il focus particolare sarà sulla Rassegno Vicaprina che taglia il traguardo delle 20 edizioni. Rassegno Vicaprina che inizierà già al mattino di sabato, quindi sabato e domenica ci saranno oltre 300 animali in piazza a confermare una tradizione. Oltre a questo tutta una serie di appuntamenti collaterali, dallo show culinario, quest'anno avremo con noi Marco Miglioli che è lo chef stellato del ristorante Carignano di Torino. È la quarta volta che abbiamo uno chef stellato che cucina direttamente in piazza e quindi questa ormai è una delle tradizioni più belle della nostra manifestazione. Altra novità, la prima edizione di un premio che si chiama Premio Bay che consegneremo a Matteo Della Bordella che è un alpinista tra i più promettenti della sua generazione, proprio a testimoniare quanto la manifestazione voglia parlare ad un pubblico diverso. Il discorso della due giorni è iniziato nel 2018 come anno zero, quest'anno sarà il consolidamento di un'esperienza che l'anno scorso ha funzionato molto bene, la fiera inizierà già il sabato alle ore 15, abbiamo già parecchie adesioni da parte dei produttori e quindi questo ci lascia ben sperare nel successo dell'evento.